hai ragionato? va! dove è andato? dove? ma lei ha messo la camicia? no perché? ma perché io sono legato con quella camicia metti il Revo e sta libero metti la camicina beh si metti la figa no io no? leviti! te l'allaccio io? fammi te l'allacciare a me guarda come ride eh eh come ride guarda quanto è contento oggi che il porta a magna fuori guarda che faccia da contento eh compito fondamentale vai ahhhh madonna mia trampa tutto il calcio ma che fa? Tina è contenta la nonna che non ha cucinato niente guarda quanto sei bella eh sei pronta? Che nipote bravo per ciò, me lo invidiano tutti, mica so come lui, io non c'è stai, io non c'è stai invece, ma sempre triste. E poi dopo mi chiama sempre però lui? Senti un po' quel tiro. Lui subito affaccendato a fondo che fa il pennello così, guarda che bel pennello, guarda che pennello, battene, 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 no, attenzione bisogna sempre prenderlo perché qui c'è tutta la cristoteca che lo osserva, cioè mica poi è domenica, oggi è una giornata bella, che ci vogliamo divertire, vogliamo star bene e mangiare bene, vero? Certo. Tu stai zitta che non capisci niente. Bah, dissing del prima mattina? E uno? La porta dei figati. Li portamo? La porta dei figati. Eh? E beh, porci i cani, io non ci vengo, ecco qua. Eh, porci i cani, che è también mi pregaglia. Ma scusa, ma... Il nero di prendere il piccio la pago a manzo. E che la fa? Fammi capire che la fa. Che la fa? Che la fa? Che la fa? Questa... Che la fa? Nulla vuota nessuno. Che la fa? Che la fa questi capelli belli? Mannaggia che la... Eh? Vabbè, vabbè, vabbè. Qua è un attimo per incegliare tutta la curva, è incredibile. Ma non è più. Che bella. Che spettacolo. Bravo Romano, bravo Andrea, grandi. Che emozione, oh. Ultimo giro da paura, ragazzi. Guarda un po'. Oh, dov'è questo Vespino? Dov'è? Dov'è? Buongiro. Dov'è? Buongiro. Oh, grande. Vai. Qua siamo in partenza, eh o no? Fa la faccia la partenza. Oh, o no? Fa la faccia la testa del cazzo. Camina. No. Ma la faccia la partenza, come si fa? Oh, poracce. Oh. Oh. Guarda che è un po' carissimo. bello, eh o no? Eh. Guarda di lì, di lì proprio da guardare. Sì, ma leva sta mano. Ah, coccodrillo. Nonna Mari, ti piace? Stiamo. Eh, sei contenta? Stiamo a dire. Eh, quanto? Inizia subito con un fiore di zucca fritto rifritto con doppio rifrittato, ma oggi che dieta si prevede? Si prevede la dieta che mi fai cazze mie. E dopo? E dopo mi fai cazze mie. E poi? E gli altri sono da fai cazze loro. E poi di dopo? Che succede? E poi da già fai un c***o. Subito o dopo? Eh, subito. O poi? O poi? Con prosciutto riprosciuttato, pecorino ripecorinato e la bruschetta. Ma quanto stai a mangiare? Oh. Oh no? Quanto mangiare? Oh. Fammi toccare il cincillare. Fammi toccare il cincillare. E' molto come mangiare di là. Con chi? Eh, da me. Ma il cincillare? Eh, tu non è proprio da te rompire con io perché... Guarda lei. Ci sei mai portato. No, il signore ci ha ripensato. Non li mangia, ti dottiamo via. No, no, fa le portavvia. Eh, questi ti piacciono, eh? Ha fatto una buca. Classici 50 grammi di pasta. Ebbè, quant'è? Ma come quant'è? Perché non è molto... E il piatto è grosso. Ma che stai a dire? Ma Saranete, guarda come ride sotto i baffi, guarda. Guarda come se la ride e se la gode oggi. E il piatto che è grosso. No, com'è? Adesso allento il piatto, è vergogna. Pare che è incattivo. Ma se no, ti le mangi. Ma tu vede, dopo ti vanno tutte di lì. Ti vanno tutte di lì. Ti vanno tutte di lì. E dove andai? Dove andai? Attenzione, sta concentrato, è incredibile. Io così quando la mangio, quando? Grazie. No, io non te le voglio più. No, 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 le mangio lì. Ah, c'è il vino. C'è il vino. Ebbè, non fa niente. No, ma io quanto non le voglio. Nonna Maria, che fa? Eh? Nonna. L'ha lanciata. Eh? Questi erano due, ne ho lasciato. Ho mangiato la bruschetta. Ho mangiato? Comunque, gli è caduto tutto il vino addosso. È stata lei. Stavolta. Stavolta è stata lei. Ma è una scena pazzesca. Non so, vuoi che è piatto. Che vorresti piatto? Anche il secondo te stai mangiando. Ma non ti vergogna un pochino davanti a tutti. Non vorrei mangiare la fulgola. Tch. Tanti discorsi. Non fai discorsi. Eh sì, che puoi mangiali. Uhuhuhu. Che vedi? Mi ingrandiscono troppo. Che cosa? Non vedo normale. Ma che vedi? Le persone, che vedi? E poi? Non la vedevo. Vedo le montagne. E la casa, vedo tutto ma... E poi che vedi? E poi vedo spiegato. Pagare il conto, tieni. Va bene. Va bene. Dì, ma Luca Piliberto. Dicendo chi ha pagato. Eh, ci credo. Vedi chi sei. Dicendoci che è il lusso. Luca P***o. Stai. 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 Volevi la crema per le mani. Che sto ignorando perché c'è la gente. Eh? E lo vado a sentire. E questo sta rompendo i coglioni. Da quando sono arrivato. Ma ti hai igienizzato? Ma c'è la mia. Tu sei igienizzato? Stasera? Hai capito? Hai capito? Hanno trincato i principini. Eh? Ma il braccio. Che te trema? Che te trema? I coglioni. Mettici un altro cucchiaio. Dici che viene da rire. Manco il caffè, mi fa buio. Guarda come. Normalmente. Guarda come ride però. Fa io gustare il caffè. Come mai ridi? Fa vedere come gusti il caffè. Ma la tazzina te l'ha andata col giacchetto? Eh? La tazzina te l'ha andata col giacchetto? Te la sei... Voi però. Quando tu avrai 93 anni. Sta così se sei capace. Tre? Mi sta ferma. Trema un po'. Mica trezzica. Trezzica un po'. Sì. Che trezzica? Siamo arrivati, nonna Marie. A San Francesco. Eh, o no? Tu scendi? Io no. Perché? Perché l'aria ha più. Ora quanto è bene? Ti vuoi a casa? E che vuoi fare? Ti vuoi a casa? Francesco? Sì. Che vuoi fare? Eh, apposta. Che ci vuoi fare? Vai dentro dai frati. Dai frati? Eh. Facci? Facci tu dai frati. Lei ti dico io un tuello. No, nonna Marie. Eh? I capelli come se lo tagliate. Mannaggia Cristo. No! Ah! No! No! No, perché? Lì c'è me a te. C'è me a te il carco. Con sto stroggio. Ah! Che vita che stai fausti. Forza, grifo. Faccio. Forza! Grifo! Grifo, grifo! Stai! C'è me a te. Troppi. Quanti? Troppi. Che hai vinto? Che hai vinto? Ho detto lo scudetto. Sì! Bravo, che offri da bene. Per lucare il B poi. Eh. Non mi ammiglia. San panica che ha vinto l'Inter San Francesco è interista San Francesco è interista Tutte le immagini della festa L'Inter è incredibile Fa mela tutta mela Vai La capriola e la... Ma che è? No vabbè Ma te che non è ricordata Andre altro Non ha vinto la Roma Ci si beve su Sì infatti Anche giù Un'altra